Allora, c'è una festa di funzioni, e si beve, si mangia, c'è la musica, ci sono tutte le funzioni, c'è x al buono, c'è meno x, c'è x quadro, meno x quadro, x al buono, tutti si stanno divertendo, a un modo loro anche le funzioni costante, chiaramente tutti si scatena un po' di più, c'è chi sta un po' più caldo, impaccato, ci sono le funzioni opposte, no? Ovviamente, lì si sta scatenando più di tutto sulle funzioni, secondo me, il seno, il seno e il coseno si stanno scatenando, quindi tipo, la tangente. si stanno divertendo, grande x, e alla x, il suo divanetto disparte da sola, e quindi le altre funzioni, se ne accorti, ti dispiace, è una peccata, e si avvicinano alla x, e alla x, che sta a fare? Dai, ma anche per colpa nostra, noi siamo quasi tutte funzioni semplici, semplici, no, no, non è per voi, dai, vieni, ti devi integrare! Grazie! 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 Grazie!